Il Consiglio regionale della Toscana apre un nuovo ufficio al di fuori della sede fiorentina è l'ex palazzina reale della tenuta di San Rossore a Pisa ad ospitare uno spazio distaccato dell'assise regionale un luogo di rappresentanza e di incontri per apportare sempre di più spiega il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo l'istituzione tra i cittadini e sul territorio della regione toscana è una scelta, una scelta di portare il Consiglio regionale su tutti i territori della Toscana con un obiettivo avvicinare le istituzioni ai cittadini anche le ultime elezioni ci dicono ed è un trend ormai diffuso che c'è grande disaffezione verso la politica noi dobbiamo portare i luoghi della politica lì dove vivono i cittadini farlo qui, in uno dei luoghi più belli della Toscana, nel parco di San Rossore dà il senso della volontà che abbiamo di metterci ancora di più in confronto, in ascolto e di farlo tutti insieme senza distinzione di colore politico noi abbiamo un compito, quello di restare all'altezza degli occhi delle persone e di cercare di trasformare questa fase purtroppo terribile della pandemia in un'opportunità e per trasformarla in un'opportunità abbiamo necessità di ascoltare di ascoltare i cittadini e questo luogo è un luogo aperto di confronto e di discussione Una sede che arriva e arriverà senza costi aggiuntivi per il Consiglio regionale ma cosa farete in questa struttura? E' una scelta che io ho voluto da sempre, da subito come Presidente del Consiglio regionale abbiamo aumentato una commissione perché abbiamo voluto rendere la cultura centrale rispetto alla scuola centrale rispetto alle politiche regionali lo abbiamo fatto senza aumento di costo poche settimane fa abbiamo modificato lo statuto inserendo la figura di un sottosegretario, allargamento dell'ufficio di presidenza anche questo senza aumento di costo lo stesso abbiamo voluto fare qui credo che noi dobbiamo essere più vicini ai cittadini senza aumentare i costi per i cittadini è un impegno che si può portare avanti che noi stiamo portando avanti con grande attenzione il nostro unico obiettivo è quello di offrire servizi migliori di riuscire a fare in modo che penso nella sanità si possa ridurre le liste d'attesa e penso che sull'ambiente si possano mettere in campo politiche e iniziative per lasciare ai nostri figli un futuro migliore al taglio del nastro le autorità militari e civili della provincia di Pisa con il sindaco della città capoluogo Michele Conti c'era anche il consigliere regionale Diego Petrucci eletto a Pisa un passaggio importante sottolinea vuol dire avvicinare le istituzioni ai cittadini questo è un dovere sempre soprattutto in un momento come quello attuale nel quale la disaffezione è evidenziata dalla non partecipazione alle ultime elezioni amministrative vuol dire anche, e questa è una cosa a cui tengo molto far capire alle persone che la regione non è soltanto a Firenze non è soltanto via Cavour o piazza del Duomo questo è un sentimento sbagliato purtroppo molto spesso giustificato da un atteggiamento sbagliato in questi anni questa iniziativa va nel far capire che la regione toscana non è soltanto Firenze e l'area metropolitana ma sono anche la città di Pisa e gli altri territori la città di Pisa in particolar modo Nel 1975 per la riforma della RAI furono programmate questa esperienza molto bella di affidare a associazioni, sindacati movimenti pacifisti, religiosi uno spazio pubblico per poter proporre le loro idee i loro programmi, i loro progetti con il passare degli anni questa opportunità si è via via svilita e oggi il programma dell'accesso è uno spazio a disposizione ma estremamente poco qualificante senza nessuna pill e soprattutto non è visto da nessuno si chiamano programmi dell'accesso sono gli spazi di comunicazione a disposizione dei soggetti collettivi sulla rete pubblica regionale il Coricom li vuole adesso rilanciare grazie alla collaborazione con la RAI ed il Master in Pubblicità Istituzionale Comunicazione Multimediale dell'Università di Firenze Affidare ai ragazzi un'opportunità per costruire loro i programmi che le associazioni utilizzeranno per la loro comunicazione per cui dal prossimo mese i programmi dell'accesso saranno gestiti dall'Università e tutti coloro che vorranno utilizzarlo potranno utilizzare questo spazio in un modo più dinamico, più comunicativo e più performante I messaggi a 8 prodotti verranno trasmessi il sabato mattina il progetto è stato presentato nella serie del Consiglio regionale della Toscana Dare più spazio per quelle che sono le trasmissioni di accesso ai gruppi di consumatori, alle associazioni per cercare di mandare messaggi più chiari migliori ai cittadini della nostra regione una democrazia funziona di più quando ognuno di noi è più consapevole di quello che ha di fronte di quello che può accadere quindi ogni qualvolta c'è uno spazio di democrazia in più io non posso che essere contento e quindi ringrazio ancora il Presidente Brogi per l'ottimo lavoro che sta svolgendo ringrazio l'Università di Firenze e la RAI per questa nuova importante opportunità Un anno dall'insediamento del Consiglio regionale della Toscana un anno ancora segnato dalla pandemia con l'attività in modalità mista a distanza e in presenza nell'Aula di Palazzo del Pegaso il bilancio da parte del Presidente dell'Aula e dei Vice Presidenti cresce, dicono, la collaborazione tra i gruppi consigliari dimostrata anche dalla rilevanza delle leggi approvate Ora abbiamo il compito di rilanciare di rilanciare cercando da subito di fare in modo che questa diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani Abbiamo investito tanto su un processo di apertura di partecipazione attraverso strumenti di digitalizzazione più evoluti Credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distingo dei ruoli 54 sedute, un tasso medio di presenza dei consiglieri che sfiora il 96%, 72 le proposte di legge presentate 46 quelle approvate Quello che anche nell'ultimo ufficio di presidenza ho spiegato trovando una sensibilità per altro comune è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate questi sono segnali importanti ecco di ritorno un po' alla normalità la quale tutti noi auspichiamo L'ultima seduta del Consiglio regionale ha visto l'Aula discutere numerose emozioni presentate dai vari gruppi question time della portavoce dell'opposizione il tema è quello dei conti in sanità toscana dopo oltre un anno di pandemia C'è un buco di bilancio, chiamiamolo come vogliamo ma di fatto si parla di 400 milioni che andranno ad appesantire sulla sanità toscana un bilancio già abbastanza negativo e sarà un autunno sicuramente molto caldo da questo punto di vista perché si parla di assunzioni bloccate per gli infermieri si parla di taglio della spesa si parla anche evidentemente di tagli di servizi dobbiamo capire in maniera approfondita quello che il Presidente Gianni in realtà nel mese di agosto smentiva a mezzo stampa dicendo che il buco non esisteva per poi arrivare alla fine di settembre con dichiarazioni anche discordanti tra l'assessore della sanità Bezzini e il Presidente Gianni su questo buco di 400 milioni una parte di questi sicuramente circa una metà arriveranno per il problema Covid dallo Stato però bisogna capire gli altri 200 milioni circa da dove arriveranno, come verrà sanato questo buco ma l'opposizione stigmatizza la mancata risposta della Giunta è già la quarta volta consecutiva che non si dà seguito a questa richiesta a questo procedimento che prevede il regolamento tema lavoro nella mozione del Movimento 5 Stelle approvata dall'Aula che chiede l'impegno della Regione nella salvaguardia dei posti di lavoro alla MT Logistica di Livorno è stato un atto doveroso per manifestare innanzitutto la nostra solidarietà ai 25 operai di MT Logistica che si trovano a essere vittime di sicuramente un licenziamento che è causato anche da una contrazione del settore e questo è stato messo all'attenzione del Governo nazionale già precedentemente con il Ministro Patuanelli che aveva sollevato e proposto un tavolo nazionale sull'intero settore quindi quello che invece noi chiediamo alla Giunta è di attivarsi personalmente con un tavolo di crisi e col consigliere personale Fabiani per cercare di seguire l'intera vicenda e per far sì che questi licenziamenti vengano scongiurati e soprattutto accendere un faro su un intero settore Ilaria Bugetti dell'EPD presenta una mozione che chiede un impegno a limitare le conseguenze sui cittadini dovute all'aumento del prezzo del gas da trazione testo approvato all'unanimità che cosa chiede? Consapevoli che la Regione Toscana non abbia direttamente e probabilmente neanche il Governo italiano le leve per poter cambiare la situazione ma come spesso facciamo perché riteniamo sia giusto prendere una posizione politica che arrivi al Governo e che arrivi all'Europa così come è accaduto per l'energia elettrica il 18 di ottobre ci sarà un'asta internazionale la sensibilità con cui l'Europa e il nostro Governo si porrà in quell'occasione potrà sicuramente essere determinante si sa che una parola di Putin può far oscillare di 20-30 punti il prezzo del gasolio a ribasso o a rialzo ecco da noi arriva un grido forte anche perché la riflessione che facevamo che è importantissima non solo per le famiglie ma anche per la ripartenza, per le imprese l'aumento del costo del gas rischia di vanificare tutti quei fondi strutturali i soldi del PNRR che faticosamente stiamo mettendo a disposizione per la ripartenza e quindi questo sarebbe veramente un aggravio gravissimo ci arriva il grido d'allarme dalle associazioni di categoria e noi riteniamo giusto e opportuno prendere una posizione forte si parla ancora di aeroporto e della nuova pista dello scalo fiorentino di Peretola con la mozione l'Italia è viva approvata dopo gli emendamenti del PD anche Forza Italia si dice d'accordo ma come Forza Italia negli anni abbiamo sempre sostenuto che la Toscana aveva bisogno di infrastrutture nuove più moderne, più efficienti e l'infrastruttura principale è lo sviluppo del sistema aeroportuale toscano Firenze e Pisa insieme e Forza Italia l'ha fatto in alcuni momenti della storia di questa regione anche da sola sostenendo che Firenze doveva essere ampliata sviluppata con una pista orientata in maniera diversa liberando così Brozzi, Peretola e Quaracchi dai sorvoli quotidiani e garantendo alla Toscana di volare nel mondo e ai tanti turisti che vogliono venire a Firenze e in Toscana di arrivare in un aeroporto moderno Forza Italia l'ha fatto fin da sempre però l'ha fatto da sola oggi per fortuna anche Italia Viva lo sostiene e ci meraviglia che il Partito Democratico faccia anche le morali quando sei sindaci del Partito Democratico hanno fatto ricorso contro l'ampliamento di Peretola quando ci sono consiglieri regionali che votano contro l'ampliamento di Peretola e l'unico baluardo è sempre stato Forza Italia per questo oggi abbiamo votato convintamente la mozione presentata da Italia Viva e ci vuole dire non abbiamo sentito nemmeno una parola da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella che sostenendo il sindaco Falchi che è il più grande sostenitore contro lo sviluppo dell'aeroporto di Peretola Nardella da che parte sta? Sta dalla parte di Falchi che ha sostenuto in campagna elettorale o sta dalla parte della storia del Consiglio Comunale di Firenze da quando Renzi è diventato sindaco sosteneva insieme a Forza Italia lo sviluppo di Peretola? Ecco perché oggi chiediamo che Nardella dica una parola chiara perché noi pensiamo che abbia davvero abdicato a tutta la storia che in Consiglio Comunale abbiamo fatto forse per qualche poltrona in più Approvata infine la mozione di Italia Viva che condanna insulti e le minacce espresse nei confronti dell'ex premier Matteo Renzi durante un comizio elettorale a Montevarchi È un atto importante la Regione Toscana il Consiglio regionale della Toscana condanna l'atteggiamento assunto da Conte e da Scanzi in quello che è successo a Montevarchi nei confronti di un senatore della Repubblica Matteo Renzi Io ho avuto il coraggio di portare questa discussione in aula ho visto dei gruppi che hanno apprezzato il mio gesto ho visto altri che avevano livelli di contrarietà alla fine ho tenuto ferma la mia posizione sulla mia mozione e ringrazio i colleghi del Consiglio regionale per aver approvato all'unanimità sapere che il Consiglio regionale della Toscana condanna Scanzi e Conte per quanto di fatto è successo a Montevarchi rispetto ad un atteggiamento perché loro hanno udito è possibile che non avessero udito frasi del tipo sparategli fatelo fuori cioè l'uso della violenza verbale e le minacce nei confronti di un altro leader politico non sono accettabili mai in primis da leader politici poi da fantomatici giornalisti questo bisognerebbe discutere del perché di quel ruolo in un comizio di carattere politico si può moderare bene ma si deve interrompere si deve condannare se all'interno di una manifestazione politica vengono utilizzati dei termini che inneggiano alla violenza verbale quello è stato un precedente grave per quanto riguarda la democrazia e la storia della regione toscana bene l'atto approvato dal Consiglio regionale che è politico